Se ti dico personal brand, ti viene in mente questo? Il tuo profilo Instagram è molto interessante Selfie in casa, selfie al mare, selfie al ristorante Se sei un agente immobiliare, dovresti elaborare una strategia per promuoverti e farti scegliere Crovazzi! Ho scritto questo post per il blog di Wikicasa, ma ti do da subito tre consigli utili Consiglio numero uno Fissa i tuoi obiettivi Identifica in cosa sei davvero unico e quali vantaggi sai generare Consiglio numero due Scegli la tua audience Non puoi piacere a tutti Nell'era della profilazione, seleziona bene il tuo pubblico e punta solo su quello Consiglio numero tre Scegli gli strumenti più utili per comunicare Ti piace scrivere? Usa il blog Non ti piace scrivere? Usa i video Ma formati e fate aiutare Vuoi qualche suggerimento su cosa comunicare? Scoprilo leggendo il post E se ti è piaciuto condividilo